Formability è una rete di professionisti nata un anno e tre mesi fa e oggi è l'evento di inaugurazione dei nuovi uffici perché ci siamo spostati dal piano di sotto, avevamo una sola stanza, sai, si inizia dal piccolo e adesso abbiamo insomma un intero appartamento in cui facciamo produzione di siti web, grafiche facciamo formazione e accogliamo tutti i nostri clienti oggi è stato un momento di incontro perché abbiamo voluto condividere le emozioni come fosse il nostro primo giorno qui nei nuovi uffici insieme a tutti gli amici, colleghi, professionisti e ci hanno supportato, abbiamo ricevuto un grande calore, una grande forza da parte loro e una forza che ci permette di andare avanti ancora con più vigore perché il messaggio che voglio lanciare a tutti i ragazzi che oggi non sanno cosa fare che cercano ancora il posto fisso, reinventatevi, oggi è possibile reinventarsi in base a ciò che vi piace, posizionatevi nel mercato ci vuole costanza, determinazione ma è possibile farlo un saluto a tutti e grazie ancora